Sapendo che la solubilità del carbonato di cadmio, CDCO3, a 25 gradi centigradi è 4,29 per 10 alla meno 5 grammi su 100 millilitri, calcolare il suo prodotto di solubilità. L'esercizio ci dice anche che la massa molare di questo composto, il carbonato di cadmio, è 172,41 grammi su mole. L'esercizio fa riferimento al concetto di solubilità, ossia al numero di moli di un soluto disciolto in un solvente quando la soluzione è satura. In particolare, si dice prodotto di solubilità di un composto a una certa temperatura, il prodotto delle concentrazioni dei suoi ioni in una soluzione satura, elevate ciascuna al proprio coefficiente stecchio emetrico. Spieghiamo. Se il sale generico ANBM viene buttato in acqua, si dissocia secondo questa reazione. Per cui ANBM dissocierà N moli del catione AM+, e M moli dell'anione BN-. Possiamo da questa relazione ricavare il KPS, cioè il prodotto di solubilità nella soluzione satura, semplicemente moltiplicando fra di loro le concentrazioni dell'ione positivo e dell'ione negativo, ognuna delle quali elevata al relativo coefficiente stecchiometrico. Quindi il KPS avrà questa espressione, concentrazione molare dell'ione AM+, elevato ad N, per concentrazione dell'ione BN- elevato ad M. Conoscendo la solubilità del carbonato di cadmio, posso ricavare il suo KPS. È preferibile convertire subito i grammi in moli. Per farlo, passiamo da questo step intermedio. Sappiamo che in 100 ml di soluzione sono contenuti 4,29 per 10 alla meno 5 g. Ricaviamo quanti grammi ho in un litro di soluzione. Quindi 4,29 per 10 alla meno 5 g su 100 ml, moltiplico per 10 al numeratore e al denominatore e ottengo 4,29 per 10 alla meno 4 g, questa volta, su litro. Quindi in un litro ci sono questi grammi di carbonato di cadmio. Siccome vogliamo trovare il KPS, quindi dobbiamo passare attraverso una concentrazione di moli su litro, ricaviamo la molarità. Per prima cosa, quindi, cerchiamo quante moli sono contenute effettivamente in questa quantità in grammi. N, numero di moli, sarà dunque pari a 4,29 per 10 alla meno 4 g fratto la massa molare della sostanza, 172,41 g su mol. Semplificando grammi con grammi, otteniamo 2,49 per 10 alla meno 6 mol. Queste moli sono contenute in un litro, come abbiamo detto prima, per cui la molarità sarà 2,49 per 10 alla meno 6 mol su litro di soluzione. Poiché all'equilibrio il carbonato di cadmio dissocia dando ione cadmio 2 più e ione carbonato CO3 2 meno, si vede che il rapporto fra la parte a sinistra la parte a destra delle due frecce è di 1 a 1. Quindi il numero di moli di cadmio, ione cadmio 2 più e carbonato è uguale a quello delle moli di sale dissociato e siamo nello stesso volume, per cui si ha che la concentrazione di cadmio 2 più è uguale alla concentrazione di ione carbonato CO3 2 meno, che è uguale proprio a 2,49 per 10 alla meno 6 mol su litro. Per cui il KPS è uguale a ione cadmio 2 più moltiplicato per ione carbonato CO3 2 meno, cioè 2,49 per 10 alla meno 6 mol su litro alla seconda, che fa 6,19 per 10 alla meno 12 mol su litri alla seconda, che fa 6,19 per 10 alla meno 12 mol su litri alla seconda. Grazie.